e quindi tiro giù la sara cinesca che faccio prima eh mi spiace purtroppo per voi è il metà così ma abbiamo qualche tempo prima di piovere comunque è una roba neanche da credere quest'anno proprio la manifestazione non si esprime non si manifesta diciamo a causa del maltempo purtroppo è già capito beh diciamo che stasera è andata più giù stasera sì ma speriamo che non sia perché stranamente anche oggi pomeriggio c'era il sole poi improvvisamente è andato via e è cominciato a piovere e poi dopo è ritornato il sole e poi è un po' così quindi c'è qualcosa di instabile proprio la figlia di cui siamo indietro è col montaggio